Iniziamo con la cosa più bella, il gol. Un gran gol per Bani. Sì, sì, sicuramente è stato un bel gol. Abbiamo fatto una giocata sull'esterno con Angelo, poi mi sono accentrato, ho fatto un 1-2 con Vincenzo, con Sarno, mi ha dato una gran palla e sono cadinato in aria. Forse è una bella giocata. Come è il primo gol della Lozzecchina? Che sa qual è? Guarda, io ero entrato da poco, quindi dopo sei minuti ho segnato, ho fatto un gol. È una sensazione bellissima perché era una partita molto difficile, si è messa molto brutta, però poi con grande voglia siamo riusciti a guantare l'avversario. Come è il primo gol. Kenia! Grazie a tutti!